Ciao a tutti, oggi qui abbiamo una Vespa PX150 ma il discorso che affrontiamo va bene anche per una Vespa PX125-200 per smontare l'ammortizzatore posteriore bisogna togliere il serbatoio che in un precedente tutorial abbiamo fatto vedere come si fa poi qui c'è questo dato da svitare per poter svitare l'ammortizzatore al telaio poi adesso vi faccio vedere che quello si vede più facilmente qua c'è questo perno da svitare che dietro c'è un dado che lo tiene e così si può togliere l'ammortizzatore dal blocco motore poi una volta tolto l'ammortizzatore sopra si può anche mettere una prolunga per poter alzare il livello della carrozzeria dalla strada avendo delle prolunghe di 3-4 cm questo motore qua è tutto smontato poi ho fatto altri tutorial e poi lo tolgo dal telaio e lo metto sul cavalletto per poter poi fare altri tutorial su come aprivi carta ciao a tutti se vi è piaciuto il filmato mettete like e iscrivetevi al canale grazie a tutti